Presidente, non famo i furbi, gli ordini del giorno che ha presentato, legittimi, fratelli d'Italia, però mi sembrano spezzettare l'emendamento che la Commissione ha presentato perché la Commissione, e poi dopo ci arriveremo, ha detto, fermo quanto previsto dal precedente comma, sono pubblicati sul portale istituzionale Informa Integrale con l'espresso dei richiamo, dei atto, una dura non definitivo e dal momento della loro iscrizione all'ordine del giorno tutta una serie di categorie di atti, tra cui le mozioni, collega. Quindi, a me sembra, e vedo tanti ordini del giorno presentati che vanno proprio anche vostri in quella direzione, mi fa piacere perché significa che voi state, diciamo, andando nella stessa direzione che la Commissione ha portato avanti, quindi per me, insomma, questo è una soddisfazione che ci sia anche da parte vostra una condivisione dell'attività politica che è stata fatta quindi, ripeto, è una fotocopia, secondo me, il mio punto di vista, quindi non vedo nessun tipo di problema a votarlo favorevolmente Presidente, tenuto conto che è un indirizzo, ma nell'emendamento poi daremo vera attuazione a questo indirizzo quindi, insomma, non ci sono problemi per me, oppure se il collega li vuole un attimo vedere, ritirare tutti e poi dopo, insomma, c'è l'emendamento che già lo fa quindi non vedo perché, però se vogliamo possiamo anche andare avanti, io non ho problemi su questo. Grazie